Sono Francesca Giralico e insedio all'Istituto Comprensivo Veroli Primo. Gli alunni della nostra scuola hanno partecipato con grande entusiasmo al progetto di sole in classe. Votate il nostro lavoro, il vostro voto ci consentirà di migliorare la nostra aula di informatica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie alla scuola capoluogo primaria di Veroli, ringrazio tutte le maestre e il dirigente scolastico. Votate i ragazzi per il magnifico lavoro che hanno fatto!